Eccoci a Senza Sconti, la trasmissione che non le manda a dire a nessuno e che non fa sconti a nessuno, quest'oggi non faremo sconti a Enrico Beruschi, bentrovato Beruschi, hai già la faccia preoccupata, no preoccupato, bene, che piacere, ma guarda che bella gente Noi ti faremo sconti e tu non devi fare sconti, Enrico Beruschi, 15 anni da ragioniere per la galbusera, poi è diventato comico, volto storico del drive-in, dopo la tv oggi si dedica al teatro, è uno che quando parla fa scoppiare le polemiche, suo malgrado, senza volere, come no? Vediamo se questa sera ci darai la mano per far scoppiare qualche polemica Io? Ma no, io sono un tipo tranquillo, le polemiche, le polemiche nascono perché magari ogni tanto dico quello che penso Allora, visto che devi dirci quello che pensi, è tutta la verità, la televisione di quest'oggi ti piace? Mica tanto, mica tanto, però la guardo per informarmi, ecco, la guardo con un terzo dell'occhio destro perché in veranda leggo il giornale la sera, un terzo dell'occhio guarda, cinque sesti guardano il giornale e la mano, questa qui, è sul telecomando, giro, giro, giro e dura E' dura Passi la serata a girare, qual è la peggior trasmissione televisiva che c'è in onda adesso, secondo te? Dimene una, che proprio fa schifo Bisognerebbe dire la più peggiore Ok, la più peggiore, anche se non si dice in italiano, Beruschi secondo lui, quella che ti fa proprio schifo Proprio ancorarmi così, di quelle comiche o politiche? Di tutta la televisione No, di comiche, guarda, una cosa che è inguardabile veramente E' quel, com'è che si chiama? Il sud, c'è il sud Made in sud Che fanno finta di fare i comici, sì, fanno finta di fare i comici, non fanno ridere proprio per niente E al di là delle televisioni comiche? Varietà o politica? No, varietà e politica li sommi, in effetti si assomigliano, varietà e politica Voglio il titolo E' quella lì di Fazio, quella lì Che tempo che fa? Ecco, mi pare Peggiore televisiva Ecco, sono quelle cose che io, tipo l'Alfieri, mi ancoro alla poltrona, dico sto leggendo il giornale, tento di guardare Non ce la faccio Resisto due o tre minuti e poi slego, mi slego e voglio un po' d'aria pure Perché i comici di oggi usano le parolacce per far ridere? Questo me lo chiedevo proprio poche sere fa, guardando una di quelle trasmissioni pseudo comiche A parte farti la domanda, dammi la risposta però Perché lo fanno? Perché non sanno cos'altro dire, si sono accorti di dire la parolaccia C'è questo pubblico che ride e si diverte e applaude E allora ridono, non lo so perché ridono Perché c'è proprio da chiedersi Ero lì che guardavo, leggendo il giornale e seguendo Per un'ora una trasmissione comica mi ha fatto increspare, l'intermente labbro con, non dico una risata, un sorrisino Ma non era una parolaccia No, un sorrisino, no, no Non era sulla parolaccia Beruschi, che cosa pensa delle veline? Splendide, belle, vengono maltrattate dai media, dalle cose Invece è proprio belle, simpatiche, un modo per presentarsi al pubblico Se c'è qualcosa di sostanza vanno avanti Perché secondo lei la Rai non fa più Miss Italia a proposito di donne, di belle donne? Perché sono dei falsi in atto pubblico Se la Rai è un atto pubblico sono dei falsi Era la cosa più bella che avevano Ma lì la donna veniva discriminata, diceva la Boldrini Ma la Boldrini le dice di scemante, dai Sta lì a guardare quello che dice a Boldrini, diventiamo matti L'ultima notizia, cos'è che si è messa in mente? Ogni tanto si mette in mente delle cose Sì, ma torniamo a Miss Italia, sono dei falsi La Rai è fatta da falsoni Sì, ebbè ma questo si sa da sempre La Mamma Rai è stata preziosa per me Perché ho cominciato lì, ho dato le dimissioni perché ero in Rai Anzi, recentemente sono andato proprio nello studio Rai Che mi ha costretto alle dimissioni tanti anni fa 40 anni fa, giusto 40 anni fa E quindi la Mamma Rai è la Mamma Rai Falsi ora o falsi anche allora? Allora erano soli, non si poteva fare dei paragoni Adesso che ci sono tante cose Forre stelle, ce n'è di gente brava E guarda che ce n'è di gente brava, professionale Ma viene schiacciata da questa Ma è un sentimento comune Da questa non ho capito Chiamiamola burocrazia Chiamiamola Non so modo di fare Dove la forma diventa più importante della società Senta, ma Renzi vuole combattere la burocrazia anche in Rai Mi dia un giudizio di Matteo Renzi, presidente del Consiglio Ma ogni tanto dice delle cose che uno dice Ma quello lì, che bravo, che belle cose che dice Metterli in pratica diventa più difficile proprio per quel brutto andazzo che c'è in giro Quindi non ce la farà a fare quello che dice? Chi lo sa, speriamo che ce la faccia Però lei ci crede che c'è la possibilità Le piace questo spirito? Lo spirito? Mi dia un voto Renzi allora, dai facciamo da 1 a 10 7 più? Beh 7 più è già possibile Beh 7 più è un positivo Berlusconi è politicamente finito secondo lei? Secondo me no Anzi è l'unico che dice le cose giuste Ancora adesso? Ha 86 anni? Non è vero Se non ho 73 io ne ho 78 lui Ah 78? Sì E infatti è proprio quello che mi chiedo Ma siamo ragazzi degli anni 60 Eppure continuiamo a combattere per le cose nuove, per il bene Siamo forse dei mati ma Quasi coetanei, vedi che ha sgamato subito il tranello Berluschi Senta, però ascolti 5 anni di differenza Meglio il Berlusconi che gestiva la televisione o il Berlusconi politico? Beh io di politica me ne intendo fino a un certo punto Di televisione devo dire che nessuno Vuoi sapere una cosa? No no, voglio la risposta Berlusconi Sì Meglio che gestiva la televisione oppure quando si è messo in politica? Parlando in grande politica Parlando in piccolo, grande imprenditore più bravo televisivo esistente Ma quindi secondo lei avrebbe fatto meglio a non scendere in politica O ha fatto invece bene, visto che... No, ha fatto bene, ha fatto bene perché ha rappresentato la diga Mi sembrava il rapido olandese Guarda la domanda della nostra redazione Irriverente come sempre Leggi la tua Berlusconi è stato rovinato da una cosina simpatica che non può rovinare Ma anzi è l'unica cosa a cui ci si può dedicare con tanta simpatia Ma come? E beh, passano gli anni ma uno una certa idea del mondo la deve avere Qui non è stato rovinato da la donna? Assolutamente No Ha fatto di tutto per raccontare Guarda che anch'io sono stato tante volte ad Arco Ma cosa vuol dire? Ha lei il Bunga Bunga ha visto pure? No, no, no E cosa le invitava a fare allora? Perché dopo il telegatto Quando dovevamo discutere del contratto Quanti anni fa? Nel 83 E quindi non c'era? Allora è stato sfortunato perché non c'era la serata del Bunga Bunga Oppure non era ancora tanto? No, ma Bunga Bunga Poi che sta lì a guardare Mi escludo Che cosa ha visto, scusi lei? Niente, una bella casa con della bella gente Ma qualche bella donna c'era già all'epoca? Sempre Sempre? Perché le donne, c'è qualcuno, c'è qualcuno, ah già, aumentano quelli a cui non piacciono le donne Senta, adesso arriviamo anche a quello Che cosa pensa quindi degli uomini di mezza età che erano l'amichetta giovane? Un dovere È una cosa importante Bisogna Adesso però sto facendo degli studi Che a livello europeo Che le donne anche di 40 anni e anche di più Non solo non fanno male Ma possono fare delle cose meravigliose Quindi non solo quelle giovani giovani ma anche quelle di 40 anni Quindi assolve Berlusconi su tutto Peggio di un tribunale, diciamo così Che assolve Berlusconi Che comunque come è stato l'ultima volta Beh ogni tanto c'è qualche giudice che Senta, a drive-in lei era circondato appunto di belle donne Che avevano il seno in vista, diciamo così Lo confessi? È mai stato lì lì per una scappatella? Visto che è sposato? Beh certo, il desiderio è quello La mente viaggia Più del desiderio Andiamo oltre il desiderio No, non ho mai Vedi, le fast food Che sono ancora Siamo ancora in contatto Anzi quando sono in giro in teatro Mollano mariti e figli per uscire con me Ma se che hanno 50 anni adesso E sono splendide, 50 anni Ma a furia di dire Mi dicono sempre Sei l'unico, quasi Insomma l'unico Loro dicono che non ci ha mai tentato No, perché Perché era un fesso o perché era rispettoso? Scusi Perché era rispettoso Vedi tutto quello che mi hai detto adesso? Le colleghe non si toccano Le colleghe Dato che di solito mi tocca essere il capo Allora non si toccano Quindi mai una scappatella con le ragazze fast food Giuri che c'è sua moglie che ci guarda? No Purtroppo per fortuna Mi dispiace Purtroppo naturalmente Perché mi facevano sognare l'Italia Un'altra domanda dalla redazione La lega lei anche in questo caso Va Beruschi Quante volte al mese usa il Viagra? Dunque Mai Perché Ma come mai? E mai Io sono sposato Ah quindi niente? Da 40 anni Dopo 25 anni si è parenti E quindi Non posso esercitare Non esercita più Beruschi? No Faccio consulenza Ecco faccio consulenza Agli altri? Sì Fanciulle In fiore Che mi chiedono delle consulenze Però non esercita Chiuso baracca e buratini Diciamo così Quindi niente Viagra Mai nemmeno assaggiato un pochino? Sì sì Però Sì sì Una volta Bebe Non ha avuto effetto? L'ho leccato No Non ho capito cosa leccato Una volta in pizzeria Con figli Mi cade La scatolina delle pillole Perché uno ha una certa età Qualche pillola la tiene E Aprendosi è venuto fuori Non so Non ho mai saputo Non potevo sapere Se era il Viagra vero O quelle pilloline di zucchero Che davano per fare gli scherzi Viagra Casualmente Ma l'avevo lì da tanto tempo Ma sarà quello vero allora Perché Enrico Beruschi Non è più in tv? Questa è una domanda Che mi faccio anch'io da solo Ma si sarà data una risposta A furia di farsela questa domanda? No Ma qualche vaga risposta Me ne dia una Secondo lei Secondo lei Enrico Beruschi Non è più in tv Perché? Perché Per esempio Si usano i talk show Nei talk show Poi bisogna dire la verità Ma c'è sempre il comico Anche nei talk show oggi Quindi volendo Troverebbe una Valida occupazione E dico la barba bianca Posso essere uno A una certa età Troppo perché Solo perché è troppo vecchio? No No Dica la verità Beruschi Abbiamo detto tutta la verità Solo per l'età Non ci credo Ma Purtroppo Ci sono delle cose strane Pensa che perfino a Mediaset Un giorno Un giorno ha promesso Che se arrivavo io Bloccavano studio Solo perché era uscita Una mia intervista Che dicevo Non sono di sinistra Pensa che bell'ambiente C'è nelle televisioni Quindi perché lei Parla diciamo così Dicendo la verità E dicendo quello che pensa E si espone Lei è tagliato fuori Un pochino Tagliato fuori Si vive lo stesso Ma perché i comici In tv oggi Sono appoggiati politicamente Secondo lei? Molto Quasi esclusivamente Quando parlavamo prima Di Di trasmissioni Non abbiamo mai avuto Delle pressioni Da una parte O dall'altra Dicevamo quello che volevamo E Soprattutto Io farei una puntata Di chi l'ha visto Che non riesco a guardarlo io Ma mia moglie lo guarda Sulla satira La satira in televisione L'umorismo Quasi non c'è Chi l'ha vista più La satira? Ma chi l'ha vista? Facciamo degli esempi Mi faccia degli esempi E non sono io Più che altro deve essere lei Senta Quindi Mi hai detto prima Quell'episodio Degli studi di Mediaset Ma lei ha mai votato A sinistra No In vita sua? Non è possibile Ognuno ha una storia Una famiglia Una nascita È cresciuto Studiato Mai neanche Adesso che c'è Renzi Mai neanche per errore Potrebbe votare a sinistra Se sinistra Intendiamo Democrazia cristiana Di una volta Lì Siamo al centro Più di lì Ma lì l'errore l'aveva fatto Chi? Lei Di votare Democrazia cristiana No Neanche quello Ah sì Prima sì Certo Aveva sempre votata a destra Proprio Sì poi viene demonizzata Poveri giovani Pensa ai giovani L'ultima volta quindi Per chi ha votato Scusi Berlusconi Non è che ci siano dubbi Ah Quindi Un'altra domanda Chi è più bravo a condurre striscia La notizia Ezio Greggio O Enzo Iacchetti Berluschi Sono loro la coppia Che conduce La notizia Tra i due Chi è il più bravo Come comico A condurre striscia La notizia La domanda Così mi dice la redazione È dura Ma quella redazione lì Vorrei vedere Un po' di strozzetti è fatta No Diciamo La risposta Berluschi Che il tempo è poco Diciamo Ezio Greggio Perché Perché È il mio bambino L'ho allevato io da piccolo L'ho tenuto tra Tra le braccia Sulle ginocchia Anche Iacchetti Era il mio Una bella puntata Greggio Berluschi Si potrebbe fare Ma si potrebbe Diciamolo a Ma noi Ma no Una Ah una Ma una Una si potrebbe fare Ecco dai Infatti ne parlavamo Ma con Antonio Ricci Siamo amici da sempre Lui dice che io Sono troppo lento Per striscia la notizia Io dico che La comicità Non è data dalla velocità Ma è data Dal ritmo Che si vuol dare Ma lei Zelig fa ridere Non nell'intervista Io un'intervista Non so A lei Zelig fa ridere Io non Cosa Eh Zelig a lei Fa ridere Berluschi Non capisco Scusi L'audio Per favore L'audio Zelig La fa ridere L'audio Scusi Me lo dica Nell'orecchio Zelig La fa ridere Berluschi Zelig Perché fa ridere Non lo so Lo chiedo a lei Lei è il comico Io il comico Eh Ma no Io sono un telespettatore No Devo dire Dai Zelig È una cosa importante Si sono cristallizzati Purtroppo dicono sempre le stesse cose E si basano sulla parolaccia Come dicevamo Ah Allora fa parte O sulla violenza Ecco io ritengo che anche la comicità Non necessariamente non debba andare sulla parolaccia È gradito il doppio senso Quindi non le piace Lo boccia Voto da 1 a 10 a Zelig Quattro o più Quattro o più Bene Con la speranza Di migliorare Con la speranza che migliori Senta un po' Ai suoi tempi Usiamo questo termine Ai miei tempi Ai suoi tempi Cioè prima Qualche anno fa C'era la Milano da bere Oggi che Milano c'è? È un po' distratta Quello che c'era da bere Se lo sono bevuto tutti Chi se l'è bevuto? Non lo so Ve lo siete bevuti voi Della vostra generazione O Se lo sono bevuti chi? Non lo so Se lo sono bevuti Sono in giro distratti Non c'è più Oggi cosa c'è rimasto? C'è rimasto Ma c'è rimasto Milano È da Milano Che bisogna ripartire Dallo spirito di Milano Lo spirito Quello vero Quello Del lavoro Dell'accoglienza Dell'allegria Torniamo Siamo un po' Agli anni 60 Visto che ha detto Che lei ha sempre votato a destra A destra Stanno cercando il candidato Per sfidare Pisa Pia L'unico Sembra disponibile Sembra Matteo Salvini Della Lega Dico Lei lo voterebbe? Le piace? Sì Dice Delle cose Delle cose interessanti Quasi sempre ha ragione Quindi lo voterebbe? In teore Se ci fosse L'alternativa Senz'altro Per favore Adesso Milano Va come ridotta Un po' di allegria Senta Meglio una serata Ad Arcore Con le ragazze Bunga Bungo Con Vladimir Luxuria Ad Arcore E che è andato Anche Vladimir Luxuria Lei mi ha detto Quando ci andavo 40 anni fa Due settimane fa È andato anche Vladimir Luxuria E ho visto Ho visto Mi ha lasciato Un po' perplesso Però le ultime Dichiarazioni Non sono male Perché io insisto Facebook Mi vergogno Ma guardo anche Facebook Dove mi mettono le cose Tipo Stemmenate Che fanno Sui matrimoni Gay 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 Scritto gay Quindi allegri Ecco Anche in milanese Si diceva una roba Al merito andiamo Berluschi però Perché Luxuria Andate a parlare Con Berlusconi Ha sentito Berlusconi Che ha detto Sì ai matrimoni gay No Non ha detto sì No Alle unioni gay È diverso Quindi Ecco Io insisto Che ci vorrebbe Un sinonimo Perché le nozze O il matrimonio Sono solo tra uomo E donna Poi Si vogliono mettere insieme Uno o l'altro Facciamo quello che vuole Ci vuole un altro nome Ma non si può chiamare matrimonio Non lo so Non l'ho ancora trovato È il sinonimo che cerco Cerco disperatamente Se due persone dello stesso sesso Vanno in comune E non in chiesa A sposarsi Ma non è sposarsi Ma non è sposarsi Non si chiama matrimonio Perché? È perché il matrimonio Tra uomo e donna E chi l'ha detto? Da sempre Ma da sempre si può anche cambiare Ma certo che si può cambiare Ha visto che ha cambiato anche Berlusconi Adesso ha invitato Luxuria a casa Ma sì, però Luxuria Io ho fatto una trasmissione E mi ero informato prima Ho detto Ma è un uomo o una donna? Ditemelo prima In maniera che so Se dar del lei O del voi O del lui Come ha risolto l'arcano? Mi hanno detto donna Io l'ho trattato come donna Un po' a fatica Ecco a fatica Perché io non ho niente contro Guarda che ho avuto dei colleghi Allegramente gay Stupendi I simpatici Amici Ma se un domani Il suo figlio venisse da lei Papà Ti presento il mio compagno E sarebbe un bello shock Mica facile Pensa a quei papà Che devono ricevere queste notizie Però Visto il mondo come va Può succedere Certo se fosse il figlio Uno ci rimane male Come Addirittura male ci rimane Come addirittura Gli verrà da piangere A un papà che gli dicono così Però sono cose che succedono Quindi se fosse Se capitasse lei Gli verrebbe da piangere Certo Certo perché Non so perché è una cosa strana È come Come quando dico che fare un weekend con la moglie è contro natura Stessa cosa Non è che ci sia da piangere È contro natura Uno sopporta la moglie per 40 anni È un santo Ma sarebbe molto più allegra Ci sono delle donne Meravigliose Non capisco Vabbè Non capisco Lo dica Lo dica Ci sono delle donne meravigliose Non capisco Perché uno sta 40 anni con la moglie Eh ma lei l'ha fatto Scusi Mi ha detto che è andato anche in pensione Probabilmente sono un perverso Senta a proposito di perversione Perché gli italiani hanno comprato Sono andati a ruba I DVD di Drive-In Sono perversi anche gli italiani Non ne hanno avuti abbastanza 20 anni fa 30 anni fa Cos'era? E no Visto il panorama di quello che si vede adesso Drive-In perlomeno solleva un po' il morale Ma è una trasmissione che ha rovinato l'Italia? Ma no assolutamente Semmai ha dato una mossa allegra D'altra parte noi di Drive-In Ma lo dice anche quello che è rimasto Il tenutario della cosa Che è Antonio Ricci Che siamo tutti figli di No Stop È un modo diverso Abbiamo cambiato un po' la televisione Io sono fortunato Ero dentro tra i primi Il berlusconesimo nato da Drive-In Ma quelle sono Ha rovinato l'Italia Sono tutte stupidaggini Avete rovinato l'Italia Le tette al vento Se guardiamo adesso Le ragazze fast food Sono delle suore di clausura A confronto a chi? In confronto a quello che si vede in televisione Tipo? E discorsi Non lo so Tipo tutte Tutte chi? Quelle lì Quelle lì chi? In televisione Una per esempio Non capisco a chi fa riferimento Non so i nomi Non faccio riferimenti Quelle tutte rifatte Presidente Quelle che la mattina Ecco adesso Dammi un primo piano Sono una presentatrice E alla mattina Mi faccio la barba Mi hanno rifatto tutto Da qualche parte Devono prendere la pelle Quindi queste povere donne Si devono fare la barba E si guardano allo specchio E non si riconoscono Dicono Ma sono più giovane adesso Che 40 anni fa Ma che roba Ma guarda Ma chi è quella lì Così bella? Ce ne Ma il Joker Ah no sono io L'idolo degli italiani Quindi le tette Delle ragazze fast food Erano originali Si Lei ha tastato Naturalmente Il dovere è il dovere Ecco E lì era tutta roba nuova Cioè tutta roba nuova Tutta roba originale Non ho tastato mai Era tutto originale Si Mentre oggi le sembra Che ci sia troppa plastica Si Si Non me ne intendo in pratica Io D'altra parte Andando giù Passa l'età Va giù la vista Dovrei Fidarmi del tatto Ma non Lei il canone Rai Lo paga Berluschi? Si Cioè No Io Mia moglie Quelle sono cose da donna Cosa gli interessa Ma sarebbe giusto abolirlo O Perché Renzi vuole metterlo Nella bolletta Della luce Ah si Ho sentito Queste cose Secondo lei Il canone Rai Va abolito O Non sarebbe giusto Quell'idea Sarebbe abolito Ho visto le entrate Pubblicitarie Che dovrebbero mantenere Ma E che mantengono Con stipendi altissimi Della gente Che non fa niente E allora Se ci fosse un po' più di Quadratura E che anche Mi dispiace A me parlare male Di Medias Dica Dica Però è diventata Tipo la Rai Si perdono Si perdono Come si dice In milanese Dormen Allumit Anche in Mediaset Senta Qual è il peggior difetto Di Antonio Ricci Visto che avete lavorato Già dall'epoca di Dreivine E ancora oggi Che ha più capelli di me È l'unico difetto Così impara È l'unico difetto No È che lui È drastico È un genio Della televisione Che ogni tanto È troppo preciso Io non ce la faccio A essere Come lui L'altro Difetto Che è inattaccabile Dalle donne In un ambiente Dove tutti dicono Ma le donne Qui Le donne là Se ne fanno Di tutti i colori Ricci Più resistente Di me Ah si Ecco bene Senta qualcuno L'aveva proposta Qualche tempo fa Come sindaco Del suo comune A Rease Perché non è mai sceso In politica Berusco Perché ci ho ragionato Questa era una cosa Che avrebbe dovuto Rimanere segreta A suo tempo Tre quattro settimane Ci ho pensato E poi mi sono accorto Che no Non è il mio compito Se faccio una cosa Tento di farla seriamente E non Guardi un'altra domanda Per lei Come verrà ricordato Silvio Berlusconi Legga lei Le possibilità E vabbè ma Mi pare Sì Come verrà ricordato Silvio Berlusconi Come un evasore fiscale Come l'uomo miracolato Da Craxio Come un puttaniere Ma No Non c'è una definizione Giusta Puttaniere è una stronzata Col tempo Non se ne parla più Ma non è stato Ma cosa c'entra La gente ha già dimenticato Benvengano Quelli a cui piacciono Le donne Ma perbacco Ecco Benvengano Quindi Miracolato da Craxi O l'evasore fiscale Ma non c'è un'alternativa Evasore fiscale Chi? Dove? Ma sì Tutto è male Adesso sappiamo anche Credere ai giudici Che brutto ambiente Che c'è Quindi nessuna Delle tre Secondo lei? No Secondo me La redazione qui Ha voluto stringere Ma non c'è Non gli è rimasto Come un uomo politico Che ha tentato Abbiamo parlato poco fa Della Milano da bere Caro Beruschi Ma nella Milano da bere Che lei ha vissuto Girava la droga? Mi dicono Lei non ha visto niente? No No È successa una cosa strana Un giorno Mi hanno detto Ti ricordi Facevamo E io guardavo Quei miei occhioni Spauriti E poi mi hanno detto Già a te niente Perché anche dove Poi si dice Che c'erano queste cose Mi hanno sempre escluso Per esempio Lei era il grande escluso Ma per esempio Nei camerini di Drive-In Esempio Tipico esempio Della Milano da bere No Neanche uno spinello girava? Non credo No Non credo Neanche un po' di cocaina? No Mai visto niente? No 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 E quindi dov'è che è successo? Dove si parla Lei niente? Eh Dove è successo? Sai che il derby Avevano avuto dei problemi A suo tempo E E mi hanno detto Che Io ci sono stato Quattro anni Ma arrivavo dall'ufficio Non capivo neanche Cosa succedeva Alla sera Alla sera facevano delle feste Io dovevo andare a letto Perché la mattina dopo Dovevo svegliarmi C'è stato un momento In cui Sono arrivato vicino Cioè Mi hanno detto Mi hanno bloccato Non mi ricordo neanche chi Ho detto Ragazzi Infatti i cretini Sapete Un po' sei la storia Della Vergine del Villaggio Sapevano La Vergine del Villaggio E allora Dico Io non ho mai provato Non so che reazione Mi può dare Quindi abbiate piantà Devo fare l'apertura Devo fare la chiusura Ah volevano farti provare Ma Mi volevano far provare Hanno fatto due o tre tentativi A suo tempo Ma non ce l'hanno fatta Ma io ho avuto un vantaggio In confronto a questi ragazzi Che vengono Fuorviati Da queste stupidate Arrivavo dall'ufficio Avevo già più di 30 anni Quindi non ero il ragazzino Che si può Ma quindi dietro le quinte Del drive-in niente No Non ha mai visto niente No Drive-in proprio No No Senta Lei è diventato famoso Per tra l'altro Perché pensi che è il drive-in Ma già non devo fare Stavo parlando della Milano da bere No Era l'esempio Del periodo Volevo capire se No ma visto le maldicenze Che si dicono su tante cose Può darsi che dicono Questa cosa No no Io non ho notizia Chiedevo a lei che c'era No Beruschi Lei è diventato famoso Tra le altre cose Per la gag dell'orologio Che è Ma scusi Orologiao Dov'è che faceva? Orologiao Orologiao Scusi Mi diceva prima Che i comici di oggi Non fanno ridere Mi dice che cavolo C'era da ridere Con sta roba Faceva ridere Perché il contesto Faceva ridere Tutta la storia Faceva ridere Era una cosa Che allora Andavano molto Le telenovelas Quindi in Sette o otto minuti Noi riassumevamo Una telenovela Quindi faceva ridere Ancora oggi Mi dice che Quella cosa Faceva ridere Ok Mentre i comici di oggi Non fanno ridere No tentano Qualcuno fa ridere Perbaco Fa ridere Sì Ah ho capito Un'altra domanda Della redazione In tv cambia canale Quando vede Barbara D'Urso O Maria De Filippi Maria De Filippi Tutte e due Come tutte e due? Sono due esempi Del berlusconismo No no Non c'entra niente Il berlusconismo Saranno gli affari Infatti io mi sorprendo La Maria De Filippi Che deve essere Di un'intelligenza Mostruosa Perché inventa Questi programmi Anche perversi Però quando la incontro Quelle poche volte Neanche mi dà la mano Quindi siamo Di due parrocchie diverse Credo E la Barbara D'Urso Beh la conosco Da quando è A 18 anni Napoletanina Però cambia canale Con tutte e due Mi ha detto Beh abbastanza Perché ultimamente Anche lei Ne raccontano Di quelle cose O il pubblico Vuole così O il pubblico Rincoglionito Vuole così O la televisione Tenta di rincoglionire Il pubblico Adesso È un quiz Questo Quindi sono due Che rincoglioniscono Il pubblico Abbastanza No beh Scusi Da come la stai dicendo Sì sì No Peggio Cioè Maria De Filippi E Barbara D'Urso Rincoglioniscono il pubblico No Purtroppo Maria De Filippi Influisce sui giovani Con delle cose Veramente vergognose Come sempre Qual è Tra tutte Quelle cose Enrico Alfieri Ancorato Alla cosa Tenta di guardare Quella roba Perversa Dove c'è un uomo Una donna Uomini e donne Uomini e donne Non lo guardo Tento di guardarlo Tento di guardarlo Quello è il peggior esempio Di televisione oggi No c'è anche di peggio C'è anche di peggio Però quella Uomini e donne Cosa fa al pubblico? Fa del male ai giovani Perché gli mette la vita Sotto un aspetto Balordo Che si potrebbe parlare Anche di cose serie L'ultima domanda E che le cose serie Devono fare i barbogi Si può parlare allegramente A questo proposito L'ultima domanda E poi la salutiamo In occasione Dei suoi 40 anni di carriera Lei disse Una volta Lo scemo del paese Doveva essere protetto E curato Oggi lo mandano In tv Mi dice qualche esempio Di scemo del paese Che c'è in tv oggi? Mi date L'elenco degli interpreti Me ne basta uno o due Non li dico io i nomi Se mi dici dei nomi Intento di No lo scemo del paese Vediamo Prima Mi diceva Zelig Zelig L'ho visto proprio L'ultima puntata Ci sono dei comici Uno Che può essere Lo scemo del paese No no Tutti Tutti Meno qualcuno Ale e Franz Per esempio Che hanno cominciato Con il Veneranda Praticamente Hanno dei tempi comici E anche loro Si sono messi a dire Soltanto parolacce Hanno fatto uno sketch Volgarissimo Senza tenere Quel doppio senso Allegro Che era Nelle buone abitudini Va bene Beruschi Grazie per questa intervista Spero abbia detto Tutta la verità Sì Secondo me La cosa più sincera È quando mi ha detto Che da vent'anni Con l'amore E si Va bene Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti